Il posto. Ma lo sai cosa si fa qui? Lo sai che fa uno stesso? Più o meno. Più o meno. Che tipo di più o meno? Solite cose. Le cose. Cose come preparare il tè, mettere a posto... Quel tipo di cose. Qui la parola hostas è un eufemismo. Sai che cos'è un eufemismo? No. Neanch'io lo sapevo. Me l'ha spiegato il mio avvocato. E quando usi una parola, per un'altra.